Sui bonus edilizi, super bonus in testa si volta completamente pagina. C'è il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge con ulteriori semplificazioni a una nuova governance per il PNRR. Per i nuovi interventi non sarà più possibile ricorrere all'accessione del credito allo sconto in fattura. Da un lato i crediti fiscali, dall'altro problemi che coinvolgono a cascata imprese, lavoratori e famiglie. Stroncata sul nascere la possibilità di chiamare in causa le regioni dopo la stretta del Ministro Giorgetti. E su quel mettere in sicurezza i conti pubblici l'ANCE non si trova d'accordo. Le regioni potevano venire in soccorso, ma non solo le regioni, ma tutti gli enti partecipati dalla regione potevano intervenire e salvare questo momento tragico che deriva dalla cessione dei crediti. Noi sappiamo che se non c'è nuova fluidità nella cessione dei crediti, circa mille imprese solo in Abruzzo rischiano di fallire, con 5.000 persone a casa direttamente, ma altri 1.000 con l'indotto, noi abbiamo circa 800 milioni in Abruzzo di crediti incagliati. Con la cessione dei crediti da parte della regione avremmo superato forse un miliardo di euro. Il nuovo decreto dovrebbe facilitare la cessione dei crediti. Chi li compra sarà responsabile solo in caso di dolo. Mettere a puntino che chi ha ricomprato i crediti, se ha usato la giusta diligenza, non ne è responsabile, significa voler forse far ripartire la cessione dei crediti. Si è parlato anche di una produzione esagerata di normative che ha in gran parte scoraggiato la firma per l'acquisizione di questi crediti. Allora, io ritengo che questa legge sia stata visionaria. In ogni caso ha presentato fin dall'inizio delle criticità enormi. Delle criticità, non so se dovute all'inesperienza o da qualcuno che voleva che nascesse male per poter essere poi, diciamo così, attaccata in questo modo così vigliacco. Perché sono lavori che altrimenti non si sarebbero fatti, sono lavori che hanno portato tanta economia per il Paese Italia, ha portato qualcosa come in sei punti di PIL del 21, circa quattro punti di PIL sono i lavori nostri, i lavori edili, hanno portato l'infa al Paese. Questo non lo dice Antonio Dintino, presidente del Lancia Abruzzo e di Ancia Chiedi Pescara, ma lo dicono il Nomisma, il Censis, il Cresme, lo dicono autorevoli economisti e tutti quanti sono arrivati a dire in maniera ugualitaria che questi lavori che altrimenti non si sarebbero fatti al Paese ha portato un vantaggio, e cioè speso 10 se ne incassava 11.